piedino bordatore per fare bordature il piedino bordatore rende davvero semplice cucire al tessuto qualsiasi nastro per bordature o il vostro tessuto preferito iniziate tagliando a 45 gradi l'estremità del nastro inserirlo poi nell'apertura della guida cono e farlo uscire dall'altra estremità dietro il piedino di un paio di centimetri per facilitare il compito potete aiutarvi con il taglia asole mettere il piedino alla macchina e settarla per il punto dritto o per lo zig zag inserire il bordo del tessuto sotto la guida cono del piedino ed iniziare a cucire facendo attenzione a guidare il tessuto esattamente nell'apposita guida del piedino ed il nastro attraverso la fessura del piedino potrete utilizzare questo piedino per cucire nastri decorativi su qualsiasi vostro progetto